È una luna alle vostre spalle, una luna che alimenta i pensieri belli e brutti che essi siano, no? È comunque una luna riflessiva, una luna che vi invita a fare anche un piccolo bilancio di quello che è accaduto nel corso della settimana, di questi ultimi giorni, sia sul lavoro, sia in ambito sentimentale. In amore, ad esempio, questa venere nel segno del sagittario ha portato già qualche piccolo scombussolamento. Non tutto funziona come dovrebbe, è una luna che vi permette di individuare anche il problema a cui dovete trovare comunque delle soluzioni. Il sole nel segno dello scorpione vi aiuta proprio sotto questo punto di vista, ad essere più decisi, più propositivi. Andiamo al segno della bilancia, il sole esce dal vostro segno.